Questa settimana c'è una opportunità per Bitcoin, forse l'unica finestra aperta per i prossimi giorni. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare il punto della situazione con il video del lunedì sull'analisi ciclica, l'analisi tecnica e i dati e le news per quanto riguarda i mercati del cripto e anche i mercati classici perché andremo a guardare anche le news che usciranno e alcuni spunti anche sui mercati classici. Ma volevo focalizzare questo video esclusivamente su una opportunità che nella settimana in questione potrebbe verificarsi proprio per Bitcoin e che potrebbe essere una ottima opportunità di ripresa di un trend adeguato, diciamo di un trend al rialzo dopo questa zona qui, cioè dopo una settimana burrascosa per quanto riguarda il re delle cripto che ha visto in pratica una swing discendente abbastanza pronunciato, non pronunciatissimo come il precedente, però comunque rilevante in termini di intensità perché siamo intorno al 12% circa di ribasso rispetto ai massimi. Quindi ci focalizzeremo sostanzialmente su questa opportunità, direi che vi ho detto un po' tutto, iniziamo subito a guardare quelli che sono i dati macro che usciranno questa settimana per capire se effettivamente potremmo avere degli scossoni dovuti all'uscita dei dati e delle news. Allora, anche questa settimana secondo me non ci sono grandi dati news che possono impattare sul mercato in maniera considerevole. L'unica zona impattante è giovedì 27 aprile con il PIL degli Stati Uniti, che è però, ragazzi, atteso in forte declino. Segno questo probabilmente che si inizia un po' a sentire anche in termini recessivi quello che è l'impatto del rialzo di tassi e interesse della politica restrittiva da parte della Federal Reserve. Però ancora, ragazzi, abbiamo un PIL, seppur su base trimestrale, che è ampiamente positivo. Quindi c'è una riduzione rispetto all'anno precedente e al trimestre precedente, però è ampiamente positivo, insomma. Però secondo me questo dato, ragazzi, impatta poco perché da un punto di vista oggettivo, se il dato previsto è identico, non cambia niente, i mercati già lo scontano. Se invece è maggiore, quindi c'è un PIL maggiore, ovviamente i mercati saranno un po' più nervosi perché pensano che la Fed possa magari alzare un po' di più i tassi, ma siccome siamo arrivati a un livello di tasso di interesse sostanzialmente già previsto, un rialzo del PIL forte non la vedono neanche così tanto negativa, quindi solo un nervosismo. Una parte ribassista invece sul previsto, quindi un PIL ancora più basso, che indicherebbe una recessione più impattante, sarebbe presa meglio dai mercati perché in realtà presuperrebbero che nel prossimo PONC la Federal Reserve non alzerà neanche di 0,25. Insomma, in sostanza questo dato non cambia nulla e ve lo dico in maniera molto chiara. Allora, sapete bene che le news hanno un impatto sui mercati solo ed esclusivamente in determinati momenti, in determinati periodi, ma poi nel lungo periodo, diciamo così, in una stragrande maggioranza dell'anno, le news impattano poco sui mercati, se non possiamo dire praticamente niente, perché i mercati vanno per la loro direzione in quanto hanno già scontato queste news. Secondo me solo giovedì 27 si potrà avere un po' di volatilità, non vedo poi dati impattanti nei prossimi giorni sui mercati. Vi faccio vedere anche la previsione per il PONC che dovrebbe avvenire, cioè no, dovrebbe avverrà, fra 9 giorni ed è quello di maggio dove la Federal Reserve il 3 maggio dovrà indicare probabilmente il rialzo dei tassi di interesse nell'ennesimo di 0,25 basis point, 85% degli istituzionali si aspetta il rialzo del 0,25, quindi ancora rialzo di interessi, quindi ragazzi i mercati stanno scontando rialzo di interessi, dovrebbe essere o l'ultimo o il penultimo, i mercati sono così predisposti e lo erano già dallo scorso anno, il 3 maggio, quindi giornata un po' rilevante, può essere anche che i mercati magari durino fino a quella data in attesa, perdurino con questi trend in attesa di questo rialzo. C'è da dire che però le mie analisi proprio sulla settimanale di Bitcoin non ci dicono esattamente che i mercati continuano a questa fase di bassista, ma bensì ci danno una opportunità. Vi faccio però, prima di andare a vedere l'analisi finale di questo video, un briefing sulla struttura dei cicli di Bitcoin, anzi facevo così, iniziamo da Nasdaq, perché volevo farvi vedere anche la questione di Nasdaq 100, che si è totalmente appiattito ragazzi, cioè completamente appiattito nello sviluppo di questa struttura, che teoricamente dovrebbe essere il secondo ciclo semestrale dell'annuale di Nasdaq, che a questo punto non sappiamo neanche se è chiuso, in quanto la partenza è stata molto deludente e estremamente, insomma, blanda, quindi in barra di congestione. Quindi sostanzialmente qui è stato fatto, vedete, una struttura di un ciclo più piccolino di Nasdaq. È interessante guardare queste cose perché rispondono a quelle che sono le esigenze di lungo periodo e questo è un ciclo settimanale. Vediamo nei prossimi perché il non superamento, il mancato superamento dei 13.003 per quanto riguarda Nasdaq è molto negativo, molto negativo in quanto i mercati classici teoricamente dovrebbero avere l'ultimo spuntone rialzista proprio in questa struttura temporale. Quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa perché in teoria dovrebbero breccare questo livello di 13.000 e 3-13.400 punti, ragazzi, non dollari per gli indici americani e poi successivamente i 13.009 e questo raggiungimento di questi livelli dovrebbe essere quasi scontato se qui è iniziato un nuovo ciclo annuale e qui siamo nel secondo semestrale. Ma stenta a fare una cosa del genere che stia prendendo un po' di tempo ci può stare assolutamente ma è anche molto interessante una cosa del genere perché andando a guardare questa cosa qui noi ci possiamo anche rendere conto se effettivamente il mercato cripto ha finito la sua fase rialzista per l'anno 2023. Secondo me se Nasdaq farà questi rialzi quindi breccando un livello e poi il secondo livello non abbiamo ancora visto tutto per quanto riguarda la fase rialzista di Bitcoin e del crypto ma questi sono i mesi più interessanti di tutti ragazzi perciò io ve lo ribadisco se siete amanti di questo mondo se siete amanti di investimenti eccetera fate estremamente attenzione a maggio-giugno in questo periodo perché c'è tanto da imparare e ve ne accorgerete diciamo alla fine di questo periodo quando magari i giochi saranno fatti allora quando i giochi saranno fatti arrivano sempre gli investitori non professionisti il parco buoi si definisce così in gergo tecnico nei mercati classici e non fate il parco buoi ragazzi quindi approfondite tutto prima di quello che avviene quindi non state a sentire la vostra fase votiva diciamo così perché i mercati giocano con le nostre funzioni andiamo su bitcoin invece la questione legata al ciclo mensile ragazzi allora che qui sia iniziato una nuova struttura di ciclo mensile non è stata confermata 24 giorni 18 il primo ciclo non si capisce bene perché sono tempi completamente sfasati rispetto ai classici 30 giorni ora nulla vieta che i bitcoin stia tentando di allungare questo ciclo cioè che qui ragazzi in sostanza non l'ha chiuso il ciclo mensile bensì lo stia tentando di allungare e probabilmente non l'ha fatto nemmeno su questo minimo di 27.045 sui dati di bit stamp ma dovrebbe continuare proprio nei prossimi giorni adesso vi faccio capire un po' questa idea perché è da questa idea che si evince poi su questo grafico l'opportunità di cui vi sto parlando in questa settimana ovviamente per i trader ragazzi di poter optare per una strategia di buy ovviamente mai 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 in deep ragazzi ma solo ad inversione poi di trend su un time frame breve ve lo ripeto per l'ennesima volta trend is your friend non si va in deep mai quando io parlo di queste operazioni andrò a comprare una deep diretta del mercato mentre crolla aspetterò sempre e comunque una inversione su un time frame inferiore a quello che sto analizzando questa è una strategia che si chiama doppio time frame spiegato nel mio corso basic 2 è l'abc del trading ragazzi se non sapete fare questa strategia tutto il resto è noia come diceva un grande cantautore va bene allora detto questo vi faccio capire la questione questa zona mi interessa mi interessa perché può essere una deep interessante poi attendere appunto l'inversione ed entrare se il mercato ci dà un segnale perché potrebbe essere l'ultimo spunto poi di bitcoin proprio per l'anno 2023 e quindi magari mi interessa questa cosa ovviamente è iper rischioso già ve lo dico in anticipo però insomma è così che si fa che si fanno le operazioni migliori allora questa zona qui secondo me il mensile o ha chiuso oggi lunedì o aspetta un paio di giorni ed è quello che farò io proprio in questa strategia ragazzi cioè tenterò di aspettare una clause diversa del ciclo mensile di bitcoin che non è stato appunto chiuso in questo venerdì 21 di aprile assolutamente no perché il mercato ha fatto un'app ma poi il rintornato ha fatto un nuovo minimo quindi un mensile con un solo giorno di app non è teoricamente non è valido e è possibile che il mercato chiuda questa fase tra un po' di giorni è una fase estremamente complessa e questo già ve lo dico insomma quindi non vi preoccupate se vi risulta un po' difficile da comprendere però i mercati quando sono complessi ci danno anche più spunti per riflettere per comprendere le cose e ci danno anche delle basi per andare a ragionare poi nei periodi successivi magari invece di fare i diciamo quelli che vanno a comprare senza capo e ne coda ragioniamo un po' di più allora questa struttura è una struttura teoricamente di questo mensile che vi sto dicendo io ho messo una fine ipotetica mercoledì 25 ma potrebbe anche allungarsi ovviamente come sapete di qualche giorno attenzione a questa fase perché allora dai miei calcoli questa è una struttura intanto di un ciclo settimanale completamente a ribasso come avete visto perché da quando è stato rotto il minimo a 29 qualcosa il mercato ha iniziato a scendere e negli ultimi video vi ho detto che infatti il mercato anche su una fase di ripresa avrebbe avuto difficoltà perché questo è un ciclo ribassista quindi fino a quando non chiude scende e basta chiude intorno più o meno ai 7-8 giorni qui era troppo breve questo è il discorso era troppo breve 4 giorni troppo breve qui è adatto a chiudere un ciclo sì perché siamo a 6 giorni 7 ore è ancora breve e soprattutto non ha raggiunto dei livelli ragazzi che adesso vi indicherò che sono anche che scaturiscono anche da altre mie analisi che condivido in academy di cui noi facciamo costantemente aggiornamento ogni mese e ogni settimana perché in academy sto utilizzando da quasi un annetto due tipi di strategie molto friendly molto semplici da seguire proprio per gli utenti che non vogliono stare sul monitor tante ore che non vogliono confusione eccetera e quindi ho impostato due strategie una che fa un'operazione al mese in pratica se la fa per esempio nel mese di aprile neanche l'ha fatta e l'altra che fa ogni tanto un'operazione a settimana insomma queste due strategie mi piacciono molto perché sono gestibili un po' da una moltitudine di utenti non sono per trader professionisti di alto livello ma sono un po' per tutti i trader professionisti però all'interno dei margini di queste due strategie possono ricavare delle informazioni estremamente aggiuntive da utilizzare poi nel trading intraday per esempio o in altri ambiti io preferisco essere un po' più lungo quindi insieme alle strategie holding che sono le posizioni di lungo periodo che gestisco anche in academy e indico in academy ho inserito queste che sono strategie di swing trading una un po' più lunga quella mensile l'altra un po' più breve quella settimanale con questa triade quindi le posizioni di lungo la media mensile è la più breve settimanale ho chiuso il cerchio in pratica riguardante tutto il mercato secondo me soprattutto le strategie da impostare su bitcoin quelle due strategie mi portano un target un livello di questa zona di bassista intorno ad aria 26.300 26.200 dollari questa l'aria che teoricamente potrebbe in effetti essere anche raggiunta proprio in un eventuale swing ribassista di bitcoin ora io vi ho messo un'aria di eccesso ribassista perché ci interessa l'eccesso ribassista perché i trend nuovi quelli che poi sono ghiotti in questa eventuale possibilità iniziano quando il mercato fa un eccesso al ribasso prima ce lo deve dare questo eccesso va bene se no poi magari ragioniamo in maniera differente però si rischia di entrare magari troppo precocemente quindi la zona dei 26.300 26.200 la monitoro proprio per questa strategia attenzione ragazzi che io qui vi devo specificare che quando parlo di queste cose non intendo mai il livello preciso 26.200 dollari ma un'aria di intorno cioè significa che tanto siccome io non compro in dip come vi sto dicendo ormai da anni e siccome non compro mai con true trend se il mercato mi fa una zona ribassista mi arriva qua e poi inverte io entro comunque e qui siamo a 26.800 perché sostanzialmente non è possibile prevedere un livello preciso di prezzo e non è nemmeno tanto importante ragazzi perché in ogni caso vi specifico dovete sempre attendere un'inversione del mercato è la strategia migliore poi qualcuno di voi schillato con stop loss trailing stop vuole fare il kamikaze comprando in dip sulle ribassi vi volete divertire divertitevi ragazzi ma sostanzialmente è un dispendio energetico mentale totalmente inutile perché se fate queste operazioni n volte quindi da trader professionisti e da investitori professionisti vi accorgete che non serve a niente perché le volte che perdete le volte che vincete non valgono il gioco della di stare lì davanti al grafico ecco questo è il discorso qui ci vuole esperienza per capire queste cose però non vi nascondo che è accattivante a livello emotivo quindi molti voi si gli piacerà fare sta cosa quindi la faranno comunque allora questa zona qui è un'area un'area di pricing ed è questa un'occasione perché perché da questa zona qui il mercato potrebbe partire con l'ultimo swing che potrebbe tentare di fare nuovi massimi è uno swing ragazzi che non è strano e soprattutto non si sposa male con tutta questa struttura che sta andando a chiudersi che dovrebbe essere un trimestrale in più non si sposa male con la ripresa del nuovo mensile di bitcoin e non si sposa male neanche con la questione di nasdaq che vi ho fatto vedere prima che ancora è ampiamente sotto quei livelli quindi se il mercato entro questa settimana va a toccare quella zona quell'aria potrebbe indicarci un tentativo di buy anche perché come vi dicevo tutti gli indicatori poi vanno a confluire con quella che è la mia strategia se inizia il rialzo già da questa zona mi manda un po' il tilt ve lo dico perché questo è un minimo basso va bene a chiudere la struttura ciclica del settimanale ma è troppo alto rispetto alle altre due strategie che vi dicevo che insomma ci indicano ancora un po' di ribasso in più qui ha toccato 27.100 è un po' troppo alto per me quindi un po' mi manda in crisi ovviamente in questo caso saremo costretti a entrare solo al superamento di questo massimo di swing a 28.100 quindi molto più in alto con i relativi rischi quindi qui decide il mercato cosa ci vorrà dare anche se il mercato salirà sopra questo livello io comunque tenterò un buy per l'ultima fase per un'eventuale possibile ripartenza del ciclo mensile di bitcoin ma sarei molto più contento se il mercato arrivasse in questa zona allora questa secondo me è l'ultima possibilità per questi mesi dopodiché dovremmo giocarcela con la chiusura dei cicli relativi alla struttura insomma più ampi quindi cicli semestrali annuali eccetera il trimestrale scusate e l'annuale e insomma diventa un po' più complesso gestire questa cosa però ancora c'è questo spazio anche perché nello short che ho fatto ieri su non lo short operazione ragazzi lo short di youtube il reel insomma per intenderci ho indicato anche la questione legata ai famosi gap e c'è un gap in effetti aperto sul cme in questa zona qui 35.000 dollari chissà questo sia un altro super buy the dip lo scopriremo solo vivendo cosa ne pensate voi di questa strategia per questa settimana qualcuno di voi schillato sta già monitorando queste zone condividiamo tutto nei commenti così facciamo il punto della situazione per oggi è tutto buon inizio settimana